Buonasera a tutti e benvenuti. Come vedete siamo puntuali, abbiamo uno stile tedesco, siamo a Verona e Verona risente della vicinanza con l'Austria e con la Germania. Grazie mille. Che ho la gioia di presentare, oltre che il piacere. Si tratta di un esito di ricerca pluridecennale, nel senso che siamo partiti da una proposta che venne da parte mia ad Alberto Lattorre quando venne a chiedermi la tesi di laurea. E io quasi provocatoriamente per lui gli proposi di sondare la figura e l'opera di un semitista storico delle religioni e rabbino di vaglia di nome Israel Zoller. Che fu rabbino capo a Trieste, docente a Padova, rabbino capo a Roma, docente a Roma alla Sapienza. Si spaventò un po' Alberto quando gli proposi questa tesi perché lui aveva, come tutti gli studenti, quando chiedono la tesi al professore hanno in mente qualche argomento, qualcosa di personale. Fatto sta che io gli dissi di attendere, di riflettere e poi di tornare liberamente a dirmi la sua opinione. Quando lo vedi ritornare mi disse di accettare volentieri questo argomento che peraltro mi aveva interessato. Perché leggendo il Talmud, soprattutto la traduzione italiana del Trattato Beracotti, il Trattato sulle benedizioni del Talmud, tradotto da Zolli nell'edizione Uthet e prefato da una sua allieva, la Contessa e Professoressa Sofia Cavalletti, una splendida prefazione a questo testo, io ne rimasi colpito, così colpito che mi proponevo di studiarne la figura e l'opera. E quello che io non feci lo proposi ad Alberto Rattore. Ne uscì una tesi degna di lode, ancora le tesi quadriennali, non le tesi triennali, che purtroppo si riducono a un'esercitazione diligente di 30-50 pagine. Fu una tesi con i fiocchi. Da questa tesi nacque anche il giudizio positivo e il professor Marco Lungo, che ne fu correlatore, assecondò la domanda al dottorato che Alberto Rattore fece. Venne ammesso al dottorato, riprese l'argomento e in ambito di ricerca di dottorato studiò il rapporto fra il fondatore della storia delle religioni in Italia, Raffaele Petazzoni, docente alla Sapienza Roma, e il rabbino Zolli. Il rabbino Zolli era stato appunto una figura importante anche per la nascita della storia delle religioni, perché quando nel 1925 si fondò la rivista Studi e Materiali di storia delle religioni, cominciò a collaborare con Petazzoni, con degli articoli di tutto rilievo. E quindi fu non soltanto rabbino, non fu non soltanto docente di ebraico, fu anche un semitista e un orientalista di vaglia, e quasi potremmo dire il consigliere, uno dei consiglieri di Petazzoni per quanto riguardava la semitistica. Insomma, da questa tesi dottorale apprezzata dalla Commissione, è nato questo volume. Questo volume pubblica il carteggio quasi trentennale fra i due personaggi, dal 1925 al 1952, e ne esce appunto la figura non solo di Zolli ma anche di Petazzoni, al punto tale che è stata accolta nella collana della rivista stessa, pubblicata a Roma, e un mese fa circa l'abbiamo presentata alla Sapienza con un intervento di persone competenti, con una serie di dibattiti che ha gratificato, penso sia Alberto che il sottoscritto, come gli amici e colleghi della Sapienza di Roma. Quindi la Fondazione Campostrini ha voluto, in un certo senso, non ripetere, ma proporre qualcosa di analogo a Verona. E qui abbiamo presente il professor Marco Lungo, che in quanto direttore del dottorato nella nostra università, è la persona più competente a poter dire una parola a proposito. E questa tesi onora non soltanto Alberto Lattorre, non soltanto la storia della religione italiana, ma anche l'Università di Verona. E la scuola di dottorato, se mi si permette questa espressione, il professor Marco Lungo adesso la limerà, la commenterà da par suo. E quindi è, per così dire, un fiero all'occhiello, lo ripeto, della ricerca storico-religiosa italiana. Questo mi fa un grande piacere. Abbiamo l'onore e il piacere di avere anche ospite il dottor Israel, che è alla mia destra, che rappresenta il momento culturale della comunità ebraica veronese. E questo è un grande guadagno. Merito suo, merito e anche del dialogo ebraico-cristiano che è venuto approfondendosi in questi anni. Per cui, nonostante, quando iniziai questo discorso in una telefonata con il professor Amos Luzzatto, notate il sorriso appena accennato al dottor Israel, ci fu un certo contraddittorio telefonico. Da questo contraddittorio telefonico è venuto un colloquio veronese, è venuta una tesi di dottorato pubblicata e abbiamo la presenza del dottor Israel. Quindi vedete che il tempo è veramente, non solo il miglior medico, ma il tempo è anche un autentico aiuto. Adesso io non voglio più parlare, voglio lasciare la parola al professor Ferdinando Marco Lungo, ordinario di teoretica nella nostra università, già preside della facoltà di lettere e direttore del dottorato in filosofia, che dirà due parole a proposito della tesi di Zolli che lui stesso patrocinò per certi aspetti. Quindi, professore, le lascio la parola. Io vorrei, sono già accesi, sì, io vorrei semplicemente ricordare alcuni aspetti di questa impresa, tra virgolette. Dico impresa perché quando si incomincia una tesi di dottorato, io di solito raccomando ai dottorandi alcune regole, alcuni criteri prima di proseguire, di incominciare addirittura il loro lavoro. Una tesi di dottorato deve cercare di dire qualcosa di nuovo. Dire qualcosa di nuovo in una ricerca significa affrontare le fonti di prima mano, quindi ricostruire tutto un ambiente, tutto un millier, si dice con termini francesi abbastanza, diciamo così, complesso, in cui non si tratta solamente di individuare o di raccontare, tra virgolette, le opere o il pensiero di un determinato autore, ma significa anche saperlo interpretare, collocare, saperlo far apprezzare rispetto al mondo nel quale è vissuto. Certamente la figura di Zoller, Zolli, poi italianizzato, ha dei riferimenti che sono importanti per la nostra cultura perché rappresenta in fondo quell'ambiente mitere europeo che vedeva il superamento, diciamo così, dei confini che poi sono stati evidentemente eretti, stabiliti tra i diversi popoli e permise quella comunione degli spiriti, usiamo questa espressione un po' altisonante, che soprattutto nei primi anni del Novecento ha permesso al di là delle divisioni della Grande Guerra anche il confronto tra i diversi popoli e tra le diverse culture. Zoller non viene dall'Italia, viene dalla Galizia, appartiene, possiamo dire, a una delle regioni dell'impero austro-absburgico, vero? E naturalmente è internazionale fin dall'inizio nella sua impostazione, ma soprattutto vive anche un momento difficile, un momento terribile, diciamo. Confesso che almeno questa notizia mi ha tranquillizzato, quella delle recenti votazioni in Austria, ma sapete bene cosa può significare per persone che hanno vissuto il dramma della Seconda Guerra Mondiale, quella situazione e Zoller come rabbino si trovò naturalmente ad affrontare quella situazione, a sentirsi magari accusato un po' insomma responsabilizzato di quello che era riuscito o non era riuscito a fare, certamente i giorni in cui è vissuto erano giorni difficili nei quali il problema vero anche della sopravvivenza del futuro era alquanto incerto. gli studi su Zoller nel nostro dipartimento allora eravamo dipartimento di filosofia hanno dato origine nel 2009 nel 2007 2008 insomma un convegno anche il dottore Israe ha portato coppia di questo volume che rappresenta un segno di collaborazione tra studiosi di estrazione diversa attorno alla figura di Zoller che naturalmente è una figura un po' enigmatica tra virgolette in che senso nel senso che certamente i studi della tesi di dottorato lo hanno dimostrato ha una sua coerenza interna ma questa coerenza interna è pagata anche di persona è una coerenza che vede scontrarsi anche negli anni dell'università con il regime e quindi dover in qualche modo subire diciamo delle difficoltà che si sarebbero potute risparmiare il lavoro di oggi è in qualche modo più che la tesi di dottorato la continuazione della ricerca nel senso che si tratta di un carteggio che vede dei protagonisti nel campo della storia delle religioni e soprattutto permette di scoprire quello che è al di là potremmo dire dietro le sene delle vicende che in qualche modo conosciamo oggi sappiamo bene che non c'è più il gusto di scrivere delle lettere vero ognuno di noi quando va bene prende il telefono da un sms da una mail fatta in modo piuttosto approssimativo ma scrivere delle lettere per queste persone che prendevano carta e penna vero e riflettevano su quello che dovevano scrivere significava anche fare il punto della situazione e quindi delle proprie ricerche dei propri studi significava anche confrontarsi in qualche modo non dico che le lettere siano più importanti dei libri ma certamente fanno vedere qualcosa di diverso da quello che è la sistemazione diciamo così dei libri dei volumi pubblicati e soprattutto fanno capire di interrogativi le domande che questi studiosi hanno affrontato vero perché è questo tra virgolette il bello tra virgolette della ricerca il fatto che affrontando degli autori si pensa tra virgolette di trovare semplicemente delle risposte cioè di punti fermi la ripetizione di quello che sappiamo già e invece quando una persona parla e parla di persona si pone anche delle domande che comunemente non si affrontano in qualche modo lasci accadere le difese diciamo che tutti noi mettiamo di fronte agli altri perché non vengono a disturbarci a sollecitarci con domande interrogativi a cui non sappiamo rispondere e allora si riesce finalmente a lavorare insieme nel senso appunto di una ricerca che risponda a questi interrogativi e sappia trovare delle strade nuove io credo di non dover aggiungere nulla tra virgolette oltre a questo semmai eventualmente se sarò richiamato all'ordine che scusa dell'espressione nessun problema aggiungeremo dell'altro grazie dico grazie al collega Marco Lungo e vorrei lasciare subito la parola al dottore Israel che dall'interno della comunità ebraica affronterà il problema che ha provocato lo stesso Zolli con la sua attività ma a lui la parola e quindi siamo tutti in attento ascolto del suo intervento prego dottore il professor Marco Lungo mi suggerisce che il professor Carozzi vuole da me delle confessioni cose cose che sapete bene che nell'ebraismo non si fanno ci si può confessare soltanto direttamente col nostro signore cosa che fece sicuramente ma penso anche prima e dopo la sua conversione lo stesso Zoller perché è una sua vita molto molto particolare ma posso permettere di dire molto particolare forse vista dall'esterno di quello che è l'ambiente o quello che è l'ebraismo perché l'ebraismo è molto complesso innanzitutto cercherò di essere anch'io abbastanza molto complesso quindi alla fine non capirete molto la pazienza ringrazio innanzitutto il professor Carozzi di avermi invitato e il professor Marco Lungo e ovviamente non faccio altro che fare i miei complimenti al dottor Latore per questa opera che sicuramente è di grandissimo grandissimo interesse almeno mio personale per il semplice fatto che a me è sempre piaciuto leggere quelle che sono le lettere e mi sono una volta incappato o incontrato scusate mi sono scontrato a dover leggere tutto il carteggio di Alessandro Manzoni e vi posso dire che da studente quando ero a scuola come tutti gli studenti Manzoni non mi stava molto simpatico perché dovevamo studiarlo per forza mi sono profondamente innamorato di lui e ho capito moltissime cose di questo grandissimo uomo come si confrontò con la politica italiana come si confrontò con la società italiana attraverso le sue lettere che era il suo messaggio quotidiano che scriveva ai suoi figli o anche persone che lo circondavano ma torno immediatamente al punto il professor Marco Longo ha espresso molto bene di qualcosa di nuovo l'ambiente miteleuropeo e confronto fra i popoli e l'accusa di aver fatto quello che era riuscito e quello che non deve essere riuscito la coerenza interna questi concetti che ha espresso Marco Longo rispecchiano pienamente quello che può essere una persona come Zoller o Zolli perché prima di tutto venendo dalla Galizia venendo da quello che è un ambiente miteleuropeo come ha spiegato il professor Marco Longo viene da quello che è un ambiente ebraico particolare esattamente quello che può essere l'ambiente Chabad poi mi sono incontrato nelle mie ricerche nei miei studi col professor Zolli più volte soprattutto in quello il suo aspetto di ricerca cabalistica quando lui è andato a scrivere la ideogenesi e morfologia dell'antico cinaitico che è l'origine dell'alfabeto quindi l'ho trovato molte volte e posso dire che era una persona che assolutamente rispecchiava pienamente questa voglia di novità questa voglia di innovazione perché il movimento cabbatico non è tanto un movimento antico ebraico ma un movimento che molto più si avvicina al cristianesimo adesso dovete scusarmi se sono così così rapido ed ecco dei concetti che forse hanno bisogno di un più ampio più ampio discorso e quindi non è assolutamente da criticare nessun tipo di sua posizione che lui prese nei confronti di quello che era invece l'ebraismo italiano che l'ebraismo italiano ha un aspetto completamente diverso ha una storia molto molto diversa se noi guardiamo un attimo quando si parla di ebraismo al parismo ortodosso abbiamo normalmente due modelli il sefardita e la schienazita e io dico sempre quando mi incontro in questi discorsi che dimentichiamo che c'è l'aspetto dell'ebraismo italiano che è ancora più antico perché l'ebraismo italiano comincia ben 300 o 400 anni prima in Italia della venuta di Cristo o dell'anno era volgare posto era volgare e quindi già esisteva a Roma una comunità ad ostia ebraica e allora si è formato un ebraismo una cultura e ha dato anche moltissimi pensatori ha dato moltissime indicazioni come possa essere il Lelda Verona che ha dato una grandissima cultura a quello che è l'ebraismo che si è formato una certa linea molto dopo si può parlare dell'ebraismo a schienazita e poi dell'ebraismo che più avanti si è espresso più in modo verso la gente c'è un ebraismo più popolare questi Chabad che cercano di avere un dialogo molto più diretto con le persone allora formato su questa cultura formato su questa base Zoller arrivò a Trieste in un ambiente tipicamente in vita europeo dove ebbe la possibilità invece di confrontarsi soprattutto con quello che era una delle grandi scuole della psicoanalisi e quindi aveva la possibilità di esprimersi pienamente una volta arrivato a Roma si è scontrato invece proprio con chiamiamolo zoccolo duro dell'ebraismo italiano e qua c'è la frase che ha detto il professor Marco Longo la critica di essere riuscito e non riuscito a fare qualcosa e invece lui riuscì molto a fare perché per l'esperienza che aveva per le capacità di persona di alto livello sicuramente lui già aveva capito cosa cos'era il pericolo che stava incombendo su tutto quello che era l'ebraismo europeo nei confronti dalle leggi razziali anche prima fino ad arrivare alla deportazione del 16 ottobre a Roma nel 1943 eppure e questo lo dico ho detto cerco di essere abbastanza rapido questo per dare risposta a tutta quella parte dell'ebraismo che dice che lui si è convertito per scappare via e invece no la sua conversione venne dopo quando ormai fu liberata a Roma quindi quando lui non rischiava più nulla e invece quei giorni lì lui era a Roma ma lui sapeva perfettamente anche se era già il suo desiderio forse quello di arrivare al cristianesimo e poi concluderò dicendo secondo il mio punto di vista o quello che era perché lui voleva arrivare al cristianesimo in quel momento in quel momento lì lui era già conscio e cercò di informare tutta la comunità ma non era creduto perché c'era questo scontro esattamente di due modi diversi di pensare di quello che l'ebraismo italiano che era molto più sedentario come tutt'oggi molto più legato alla società incredulo di quello che poteva succedere invece lui proveniente da un ambiente ostile sempre perché dalla Polonia dalla Galizia a quello che è stato lo scontro fra la cultura ebraica e la cultura del posto e soprattutto anche perché se mi permettete di dire io da sefardita ovvero spagnolo posso dire che gli aschenaziti di natura si ghettizzano da soli questa è una battuta ma esiste anche un modo diverso di affrontare quindi questa sua situazione l'ha portata a uno scontro nella comunità di Roma invece lui ha saputo ottenere molto bene quello che ha espresso sempre il professor Marco Longo la sua coerenza interna quindi io la ringrazio professore lei in poche parole ha saputo dipingere esattamente il rabbino Zolli e per ultimo qual era secondo quello che più o meno si vede in ambiente ebraico e come molte persone sono successe il suo legame o la sua ricerca cabalistica che aveva sempre fatto aveva sempre portato e studiato lo avvicina moltissimo a un grandissimo cabalista Abu Lafia il quale arrivò addirittura nel 1200 1300 fino al 1200 arrivò addirittura a Roma c'è quel famoso aneddoto che arrivò fin sotto la finestra del Papa il quale quella sera morì lo stesso Papa ma perché lui Abu Lafia si recò non tanto per convertirsi al cristianesimo ma in quanto per riavvicinare il mondo cristiano a quello che il movimento cabalistica della della teshuva cioè della ricerca del tikkun della ricerca di quello che sono arrivare al al Signore quindi io l'ho visto e l'ho incontrato Zoller in più occasioni in questo stesso aspetto lui non si è convertito al cristianesimo ripeto non è solo il mio punto di vista ma è diffuso ricercato solo per una ricerca di scusate ma questo neanche da considerare però lo dicono di rifugiarsi o di difendersi no lui l'ha fatto sempre nel segno di cercare questo riavvicinamento a quello che è il Signore all'avvenuta del secondo Messia o all'avvenuta del primo Messia e riaccongiungersi praticamente tra questi due popoli così come sempre ha detto il professor Marco Longo la ricerca e il confronto fra popoli e culture grazie 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 anche il dottor Israel in effetti la figura e l'opera di Zolli è stata un po' l'opera di un precursore del dialogo ebraico cristiano e non è un caso che fra gli esiti del concilio Vaticano secondo più che le costituzioni e i decreti ossia i documenti ufficiali che interessano la chiesa abintus cioè all'interno sono tre dichiarazioni di cui due in modo particolare sono state foriere di novità lievitate appunto dal Vaticano secondo la dichiarazione sulla libertà religiosa e la dichiarazione sul pluralismo religioso e il dialogo interreligioso la nostra etate e la dignità tisumane ebbene Zolli con la sua attività con la sua vita con la sua esperienza con la sua teshuva non è stata una conversione Zolli disse alla Cavalletti che ci si converte quando si passa dal cattivo al buono e lui non ha si ricordano questa bellissima confessione che Zolli fece alla professoressa Cavalletti lui non si convertì giustamente l'ha sottolineato adesso il dottor Israel si trovava già in un atteggiamento di dialogo di apertura era un ebreo messianico come l'ha definito Marco Morselli uno degli studiosi che partecipò al nostro colloquio veronese ecco io vorrei adesso leggervi la scheda che avete visto sulla sulla prima di dare la parola ad Alberto Lottorre sulla locandina invito la corrispondenza intercorsa nell'arco di 27 anni tra Eugenio Zolli e Raffaele Petazzoni rende testimonianza di una lunga e feconda collaborazione scientifica fra i due studiosi e anche attraverso la narrazione di vicende e traversie accademiche aiuta a ricostruire il contesto in cui si afferma la storia delle religioni si compie la parabola del modernismo e si diffonde la psicoanalisi dettagli talvolta marginali in apparenza insignificanti rendono l'epistolario documento di un momento breve ma rilevante della storia italiana nella prima metà del novecento e in questo senso l'opera contribuisce a restituire alla storiografia contemporanea Eugenio Zolli uno dei suoi dimenticati protagonisti e getta un ulteriore sprazzo di luce sull'attività civile e scientifica di uno dei padri fondatori della storia delle religioni italiane Raffaele Petazzoni a cavallo del periodo storico più doloroso della storia nazionale ecco con questa informazione sintetica do la parola ad Alberto Lattore che adesso ci presenterà in sintesi anche egli e poi lasceremo la parola a voi ai vostri interventi l'opera che ha condotto in questa in questa monografia grazie professore grazie a tutti voi per essere intervenuti qui questa sera numerosi sono particolarmente lieto e nonché onorato di poter presentare qui alla fondazione Campostrini il lavoro che ho dedicato al carteggio Zolli e Petazzoni due studiosi che segnarono a loro modo ciascuno a proprio modo in maniera indelebile la storia culturale italiana della prima metà del novecento le cui vicende umane scientifiche e per Zolli anche religiose spirituali si sottraggono a quelle che sono letture polarizzate e polarizzanti superficiali o semplificate ma che anzi viceversa richiedono un atteggiamento critico un spirito di riflessione e di sospensione del giudizio per essere esaminate analizzate ed eventualmente comprese nella loro complessità per questo ringrazio la fondazione Campostrini in particolare dottor Massimo Schiavi per l'organizzazione pratica della giornata della serata come il professor Carozzi per essersi fatto promotore di questa iniziativa e il professor Marco Lungo anche il dottor Israele per essere qui intervenuti e aver accettato l'invito il professor Carozzi e il professor Marco Lungo sono debitore per tutte le ragioni che hanno già espresso loro attraverso la ricerca che ho compiuto nel mio intervento che vuole essere breve vorrei mettere a fuoco tre aspetti uno in qualche modo è perché può essere interessante la lettura del carteggio Zolli e Fettazioni che detta così potrebbe sembrare una sorta di pubblicità l'invito a leggere il libro io credo che come ho accennato poco fa la Vicenza Zolli rappresenta un eccellente banco di prova per esercitare la facoltà critica del giudizio richiede come ha accennato da un lato la capacità di sospendere i propri giudizi le proprie convinzioni dall'alto la necessità di lasciarsi come dire coinvolgere trasportare in un contesto storico culturale che è sicuramente molto diverso e molto lontano dal nostro ma che era estremamente complesso delicato contraddittorio era quello appunto del periodo in cui i due studiosi si scambiano le lettere per altri versi sempre legato a quello che può essere l'attualità il loro carteggio consente di indagare le pieghe che in qualche modo stanno dietro le apparenze dietro le maschine prima lo accennava il professor Marco Lungo ovvero la lettera costringe un po' a togliersi una certa maschera e ad affrontare direttamente alcune questioni senza quella anche perché in qualche modo tutelati dalla riservatezza di sapere che in qualche modo nel momento in cui si scrive la lettera leggerà solo un unico destinatario no un pubblico di lettori come può essere quello di un volume o di un convegno piuttosto che di una lezione accademica e quindi entrare in quelle dinamiche talvolta anche molto personali molto sofferte come testimoniano le lettere di Pettazioni e di Zolli in particolare di Zolli perché è inutile negarlo la stragrande maggioranza 63 su 66 sono di Zolli le risposte di Pettazioni sono solo tre le altre sono andate perse per diverse ragioni il secondo aspetto è che in qualche modo e qui vorrei attraversare come dire un filo rosso che accomuna il carteggio che in qualche modo vede Zolli e si collaboratore di Pettazioni in termini di contributi per la rivista studi e materiali in termini di suggerimenti indicazioni spiegazioni filologiche su questioni semitiche quindi Zolli è a tutti gli effetti un collaboratore di Pettazioni anche nella stesura dei volumi più importanti di Pettazioni la confessione dei peccati e l'oniscenza di Dio ovviamente per quanto riguarda l'ambito ebraico ma Pettazioni fu per Zolli una sorta di garante scientifico di patrono di referente di ancora di salvataggio in alcuni momenti molto tempestuosi della vita di Zolli è chiaro che la vicenda personale di ciascun individuo è unica e irripetibile ma nella unicità e irripetibilità della vicenda Zolli c'è anche un carattere di straordinarietà e di eccezionalità innanzitutto Zolli vive in otto diverse città e in queste città respira il clima culturale non sono città di secondo piano in quel momento storico la Brodi galiziana la città nella quale nasce Zolli viene menzionata tra Scholem nelle correnti della mistica ebraica come uno dei cuori pulsanti non solo del chassidismo e della Kabbalah le città nelle quali Zolli poi si trasferisce per vicende familiari di studio la Vienna di fino 800 inizio 900 è attraversata da fermenti nazionalistici a cui si accennava prima con il partito socialdemocratico di Karl Luger fortemente antisemite in questo la Firenze nella quale Zolli venne a studiare è la Firenze nella quale convivono coesistono o meglio due tra le realtà culturali più importanti dell'epoca il collegio rabbinico di Firenze era in Italia all'epoca forse per certi aspetti il più importante non a caso insegnavano due maestri di Zolli due esponenti della scienza del giudaismo che incisero profondamente nella formazione di Zolli nella sua forma mentis mi riferisco a Margulias che era anche rabbino capo di Firenze e Peres Iris Pers Caes che fu poi con Zolli rabbino a Trieste e che è ritenuto uno dei maggiori esponenti in assoluto della punto scienza del giudaismo e studioso con uno spirito critico dei testi in particolare i neotestamentali appartiene a diverse culture Zolli appartiene chiaramente fin dall'infanzia alla cultura ebraica iddish ashkenazita ma anche ucraina austriaca era di madrelingua tedesco e poi italiana cambia più volte il nome ed è emblematico soprattutto nell'ambito ebraico c'è un rito che lui stesso studia e descrive in un articolo su studie materiali che è il rito del cambiamento del nome e Zolli lo cambia una volta costretto da le leggi autartiche fasciste per cui viene italianizzato Israel Zoller in Israele Zolli utilizza uno pseudonimo sulla rivista di Ernesto Buonaiuti religio per continuare a pubblicare i suoi articoli i suoi studi durante gli anni nei quali è proibito pubblicare studi di ebrei Italo Zolli quasi da Israele a Italo interessante anche questo passaggio evocativo e poi il cambiamento del nome avvenuto all'atto dell'adesione al cristianesimo lui la definisce più volte così non mi sono convertito ho aderito al cristianesimo che è quello appunto di Eugenio Maria è vice rabbino prima a Trieste poi rabbino capo a Trieste poi rabbino capo a Roma è docente direttore del collegio rabbinico di Roma quando si trasferisce come rabbino capo è docente di lingua e letteratura ebraica prima a Padova poi alla soppienza e al pontificio istituto biblico conosce i pogrom russi direttamente perché il padre è costretto a chiudere lo stabilimento tessile che aveva nel territorio polacco sotto il controllo dei russi indirettamente ovvero non viene rinchiuso in un lager nazista ma da fonti consultate dai nipoti di Zolli risulta che due suoi fratelli furono internati nei campi di sterminio conosce il fascismo conosce le leggi razziali l'occupazione di Roma la deportazione nasce ebreo viene spinto dalla madre a intraprendere gli studi rabbinici e finisce per aderire al cristianesimo si nutre di chassidismo di kabbalah ma si forma attraverso la scienza del giudaismo si forma alla filosofia lui è laureato in filosofia e alla psicologia la sua tesi di laurea è una tesi in psicologia sperimentale elaborata sotto uno il primo e più autorevole psicologo sperimentale italiano Francesco De Sallo che insegnava a Firenze e che anche egli influenzò profondamente la forma mente di Zolli appartiene in qualche modo a quell'intelligenza mitteleuropea a cui appartengono i grandi di quel periodo frequenta non sappiamo bene in che termini probabilmente non sarà possibile stabilire bene in quali forme Edoardo Weiss che fu il primo psicoanalista italiano colui che portò la psicoanalisi in Italia che fondò la società italiana psicoanalitica che fondò la rivista italiana nei psicoanalisi su cui Zolli scrisse più articoli fu in rapporti quantomeno epistolari con Freud probabilmente si incontrarono anche sia Freud che Zolli frequentavano il centro termale di Carlsbad che era che attualmente è in Repubblica Ceca ecco è curioso no dicevo è sicuramente la vita personale di ciascun individuo è straordinaria e unica ma quali persone possono veramente poter nell'arco dello stesso periodo storico del novecento essere compenetrati partenere vivere situazioni così profonde complesse vorrei ecco il terzo passaggio è questo toccare quali sono i luoghi che Zolli frequenta per così dire nel Trivenito visto che ci troviamo a Verona in qualche modo la stessa ricerca lo stesso convegno radicano un certo tipo di ricerca su Zolli Zolli fu rabbino capo a Trieste appunto prima vice rabbino e poi docente di ebraico a Padova quindi c'è un lascito anche in termini di una frequentazione nel Trivenito Zolli inizia la corrispondenza a competazioni inviandoli quel testo al cui faceva riferimento il dottor Israel ideogenese e morfologia dell'antico sinaitico testo che aveva inviato ad altri studiosi tra cui Giorgio Levi della Vida con l'intenzione probabilmente di farsi conoscere a un ambiente accademico e scientifico visto che quella era la prima opera di un certo interesse scientifico di un certo fondo ed è interessante perché Petazzoni probabilmente anzi senza probabilmente risponde all'invio al regalo all'omaggio del testo con una lettera chiaramente di ringraziamento ma nella quale dovette verosimilmente muovere qualche critica lo si desume dalla lettera di apertura del carteggio ovvero la prima lettera che Zolli scrive a Petazzoni di cui abbiamo traccia ed è curioso dicevo perché la scrive sulla carta intestata della comunità ebraica di Trieste con il titolo di rabbino maggiore quindi il rapporto che Zolli inizia con Petazzoni da un punto di vista formale è un rapporto di un rabbino capo che si pone a uno studioso che in Italia era già considerato per tanti versi il padre della storia delle religioni con questo aspetto di rabbino che si cerca di qualificare come studioso come scienziato e allora non si può non partire per cercare di dipanare la matassa nella quale appunto si avviluppa la vicenda Zolli con tutti gli aspetti di complessità di cui parlavo prima dal fatto che Trieste è un punto di riferimento importante per lui vi arriva nel 1911 come rabbino capo insieme al proprio maestro Caius che è il rabbino capo Zolli è il vice rabbino come dicevo prima uno dei maggiori esponenti della scienza del giudaismo e della Ascalà cioè il movimento illuminista ebraico lo stesso Caius era galiziano addirittura nati entrambi nella stessa città la famosa città di Brovi come dire le trame del destino talvolta sono sorprendenti perché arriva a Trieste la risposta si può ipotizzare di frutto di diverse congetture all'epoca Trieste appartiene all'impero austro-ungarico nel 1911 è ancora una città sotto il controllo austriaco asburgico e Zolli come dal resto Caius è ancora suddito è di madrelingua tedesca perché la madre era tedesca ma conosce anche l'italiano per i vie degli studi condotti a Firenze e quindi è una figura ideale per una comunità come quella triestina le condizioni di vita degli ebrei triestini sono decisamente erano decisamente migliori di quelle dei confratelli galiziani la terra da cui proveniva Zolli per tutte le ragioni di cui dicevo prima e forse non è meno azzardato ipotizzare che Zolli che Caius porti con sé il suo pupillo può essere un'ipotesi azzardata può essere infondata però viene quasi naturale pensare che per una città crocevia per una città importante in una posizione delicata come la questione irridentista cominciava a essere importante colui che è nominato rabbino capo probabilmente porti una persona della quale si fida è vero che Zolli ci racconta questa è la versione di Zolli che i rapporti con Caius a Trieste non furono idilliaci ma probabilmente leggendo l'autobiografia di Zolli prima dell'alba questo è legato fondamentalmente alle diverse posizioni assunte Caius è filo austriaco e Zolli invece si dichiara fin da subito filo italiano e quindi in qualche modo questa contrapposizione deve aver inciso sulla qualità dei rapporti nel 1919 al termine della guerra infatti Caius viene nominato rabbino a Vienna mentre Zolli viene nominato rabbino capo Trieste quindi arriva a Trieste a 30 anni nel 1911 un'età ampiamente adulta soprattutto per quei tempi e si ferma per 28 anni fino a 1939 arriva giovane uomo e se ne parte adulto maturo per 30 anni ha girato la Galizia poi l'Austria fino a Firenze e per 28 anni rimane come studioso come rabbino Trieste ma Trieste è soprattutto la porta dalla quale penetra in Italia la psicoanalisi lo dicevo prima con Edoardo Weiss qui a Trieste intraprende la sua carriera di studioso e di docente inizialmente come insegnante di religione alla scuola media all'iceo classico scientifico in seguito appunto poi come docente universitario qui si sposa diventa padre per la prima volta rimane vedovo nel 1917 quindi nel mezzo della prima guerra mondiale si rispose una seconda volta e nel 1925 data che singolarmente coincide con la metà del suo periodo triestino di vita a Trieste si potrebbe quasi dire nel mezzo del suo cammin triestino pubblica la sua prima opera che dicevo prima essere ideogenese e morfologie dell'antico sinaitico ed è l'opera con la quale si accredita nell'ambiente accademico ed è l'opera che viene discussa di fronte alla commissione per il conseguimento della libera docenza in ebraico e lingue semitiche comparate discussione che avverrà l'anno successivo come dire se Firenze era stata la porta di accesso di Zoglia all'Italia Trieste diventa la porta attraverso la quale Zoglia entra nella cultura italiana mentre interpretazioni e studi materiali diventano per certi versi se non la porta quanto meno la maniglia per accedere a quel mondo accademico tanto agognato da Zogli l'altra città e qui in qualche modo il collegamento è legato proprio a questo passaggio a questa acquisizione di libera docenza significativa nel percorso di Zogli è la città di Padova nel 1906 Zogli anche a seguito della pubblicazione di quel volume e di un articolo relativo all'origine dell'alfabeto che oggi viene definito protosinaitico consegue la libera docenza e all'università di Padova a partire dall'anno accademico 27-28 fino al 1938 insegna lingua e letteratura ebraica le circostanze che portarono Zogli all'ottenimento dell'incarico anche in questo caso sono davvero singolari e significative della vita travagliata delle numerose difficoltà che dovete affrontare infatti l'incarico il corso era libero quindi non era obbligatorio sostenere l'esame di ebraico da parte degli studenti e l'incarico non era retribuito nei primi tre anni riceve un imborso spese e nel 1929 un benefattore anonimo triestino è disposto ad allargire una somma all'università per pagare il corso affinché il corso diventi ad incarico ci vorranno ben tre anni a testimonianza che la burocrazia non venne intaccata neanche dal fascismo come talvolta una certa retorica vuole far credere di continui rimbalzi di lettere di responsabilità si arriva ad un certo punto di stallo quasi paradossale nel quale l'università prima di istituire l'incarico chiede che venga versata la quota da parte del benefattore triestino il benefattore triestino chiede che prima di versare la quota venga istituito l'incarico è nato primo luogo la gallina detto in altri termini la situazione è che costringerà Zolli a altri fondamentalmente tre anni di sofferenza insomma qui tra l'altro sempre ritornando al tema del rapporto con Pettazioni nel 1938 si esaurisce la disposizione lasciata dal benefattore a questo punto Zolli non è più nelle condizioni economiche di sostenere l'incarico e prima dell'avvento delle leggi razziali chiede un intervento diretto a Pettazioni e ce ne prova nel volume affinché perori la causa di un'istituzione dell'insegnamento di ebraico Pettazioni scrive effettivamente all'allora rettore Carlo Anti attraverso vicende anche qui piuttosto travagliate si arriva finalmente all'incarico e beffa come dire amara beffa due mesi dopo l'istituzione dell'incarico la promulgazione delle leggi razziali cancella tutta quella fatica decennale di Zolli questo per dire la complessità e la sofferenza che in qualche modo contraddistinse la vita di Zolli ma a Padova ecco questo è poi l'aspetto interessante da un punto di vista scientifico Zolli affinò ai propri strumenti l'indagine filologica impartì corsi su argomenti l'evoluzione del banchetto pasquale ebraico la preghiera i detti di Gesù che divennero il nucleo delle sue opere storico-religiose più importanti Israele studi storico-religioso nel 1935 e il Nazareno studi di esegesi neotestamentari alla luce dell'aramaico e del pensiero rabbinico nel 1938 riuscì a pubblicarlo sul filo di lana ma soprattutto ebbe tra i propri allievi alcuni sacerdoti nel segno di una scuola che in qualche modo riuscì nonostante le traversie a aprire a fondare tra cui li ricordo lo stesso Zolli in un memoriale che indirizza appettazioni adanti per chiedere che il carico di ebraico venga mantenuto Giorgio Montico che fu ministro dei francescani a Istanbul in stretti legami con Angelo Roncalli il futuro Giovanni XXIII quando questo fu inviato in Turchia come delegato pontificio e il gesuita Pietro Boccaccio che fu docente di ebraico alla pontificia Università Gregoriana e al pontificio istituto biblico chiudo questo mio intervento dicendo che dalle pieghe della corrispondenza davvero emergono aspetti non trascurabili per costruire la trama dei rapporti umani ma anche soprattutto culturali e scientifici di due personalità di rilievo c'è un aspetto che qui non ho toccato che è il rifiuto che Pettazioni avanzò alla pubblicazione di un articolo sull'evoluzione del banchetto pasquale ebraico articolo che poi rientra come capitolo nel volume Il Nazareno avanzando ragioni di riguardo di prudenza perché si affrontano questioni dice Pettazioni in una malacopia che avrà occasione di sfogliare il libro si renderà quanto è malacopia testimoniano anche qui la difficoltà di riuscire a trovare le parole adatte fondamentalmente perché Pettazioni teme che la pubblicazione di questo articolo possa mettere in cattiva luce la rivista che lui dirige studi e materiali di storia delle religioni agli occhi della chiesa cattolica perché la questione che affronta Zolli nutrita di psicoanalisi nutrita di evoluzionismo nutrita di totemismo mette in seria discussione certi documenti della chiesa in particolare in riferimento al banchetto eucaristico dicevo appunto il carteggio ci consente di guardare quindi a questa complessità e a vedere come certe letture di alcuni fenomeni siano estremamente complese come sia fondamentale entrare con un atteggiamento oserei dire socratico cioè sospensione del giudizio rispetto alle situazioni che ci si trova ad affrontare e dicevo è possibile osservare i percorsi di due personalità di rilievo in cui l'ascito culturale scientifico ha continuato il suo corso nell'analogia è obbligata avendo preso le mosse da Trieste come un fiume classico che ogni tanto riaffiora perché le tue presenze in qualche modo ancora nella storia culturale italiana anche se non sempre in maniera lineare riaffiorano testimoniandoci dello sforzo e della fatica che hanno compiuto questi due studiosi in particolare concludo dicendo davvero io leggendo le lettere cercando di ricostruire il clima nel quale si trovarono a vivere sono rimasto fortemente scioccato dalle traversie che i due in diverse misure in diversi modi dovessero affrontare e più che risposte mi sono posto degli interrogativi ma come ci si deve porre come ci si deve comportare di fronte a certe situazioni e per me questo è stato l'ascito più interessante grazie